Donoreste di Amicis, merita un posto nella storia perché nel 1860 in un delirio di nipotenza si autoproclama il Messia d'Abruzzo. La domenica, la predica, la messe, le cose, mica le mandava a dire. In galera, per facapontaggio Filippento e la religione. Io sono innocente. Qual vantaggio troverà l'uomo che guadagnerà il mondo e rinegherà la propria anima? Rispondi mo'. Arangione. In marcia! Eccoci arrivati. L'ultimo che sta messo a cucina ha fatto una bella fine. Vai con la coreografia! Che interpretazione che sto fatta. Grazie!